...corsi di formazione per lo spettacolo. Ne parliamo con Marzia Fontana, attrice e Daniele Marmi, attore e cabarettista. Detto questo, insomma, ci sono questi corsi che formano, no? Formazione proprio per lo spettacolo. Per lo spettacolo perché ricordiamo... Nella nostra città, giustamente. Nella nostra città perché è una professione, non è un hobby, non è un qualcosa in cui ci si improvvisa. Oggi invece alle volte passa il concetto, no? Che chiunque fa un reality... Basta essere una bella ragazza, un bel ragazzo, aver fatto un qualcosa, però insomma vanno a finire da soli, cioè le potature perché non hanno le capacità. Quindi è una professione, bisogna formarsi, bisogna essere capaci di affrontare determinate situazioni nella maniera giusta. E noi quello che cerchiamo di fare è formare artisticamente e soprattutto dal punto di vista personale, perché essendo entrambi dei professionisti del settore sappiamo perfettamente... Lei non lo direbbe mai, ma Marzia Fontana domenica scorsa è andata in onda su Canale 5 con il distretto di Polizia 11. Io li ho visti tutti, lì veramente ci ho fatto una piccola parte, no? Veramente hai fatto una bella parte e lì non è, si torna lì, non esistono le piccole parti, esistono i piccoli attori, no? Perché se uno è capace si vede anche i piccoli ruoli. Eh vabbè, ma oggi, diciamo che in questi corsi di formazione si ha la possibilità di lavorare con persone che quotidianamente, voglio dire, hanno l'approccio con il mondo dello spettacolo, no? Giusto? Quello assolutamente. Io penso a lui, no? A Zelig, perché tu sei a Zelig anche, no? Sì, ho finito una settimana fa di registrare l'ultima puntata e vanno in onda dal 30 ottobre. Quindi hai già svelato che sono tutte registrate. Sono tutte registrate. È il vero della televisione questo. E quindi lì il tuo ruolo, lì effettivamente, lì è una chermessa, è una risata continua, insomma c'è il pubblico dal vivo. È un altro mondo. Che emozione è quella? È proprio un altro mondo. Io è la seconda volta che registro e si spera sempre di andare di sopra, ma non si sa, però è veramente una sensazione unica. Quindi il tuo ruolo anche quando trasmetti questo talento che tu hai, perché io dico sempre che far ridere è molto più difficile che far piangere per quanto mi riguarda. Non è facile, eh? No, per niente. Ecco, perché poi quando la risata diventa generale, lì veramente capisci che... Poi ci sono palchi e palchi, perché entrare in quel palco lì è proprio una sensazione che... Hai detto una cosa giusta. Il fatto di fare una professione, ci sono palchi e palchi e quindi l'artista capisce, dovrebbe capire subito come muoversi. Perché davanti a una camera, una camera da presa, no, come si dice? Telecamera. Telecamera, scusate, avete la telecamera adesso. E davanti a un pubblico vero è differente. È molto differente. Lì poi troviamo anche le telecamere col pubblico vero, che è ancora più forte d'impatto. Poi comunque il palco di Zelig è... Quindi anche il fatto del stesso che arriva una persona, si vuole formare, eccetera, come l'hai indirizzata? C'è anche il sogno nel cassetto che poi un poverino non è veramente portato, dai. No, 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 vabbè, sfatiamo questa cosa. Diciamo che chi si impegna e fa un percorso serio riesce comunque ad arrivare a dei risultati. È ovvio, chi ha un talento personale arriverà più in alto, chi ha meno talento farà un po' meno strada, ma tutti possono fare qualcosa. Le possibilità sì, ci sono per tutti. Noi ad esempio abbiamo un'agenzia di spettacolo di Roma che segue i nostri ragazzi, i più meritevoli, quelli più formati, diciamo, vengono passati a questa agenzia che li fa lavorare. Tutti coloro che anche nel centro Italia, noi abbiamo persone che vengono da Firenze, che vengono da Pistoia, che vengono da Perugia appositamente per lavorare con noi due, vengono perché il nostro è un trampolino di lancio con una realtà lavorativa. E non a caso anche persone che ultimamente hanno fatto delle cose in Alcina, ma io parlo dello stesso Scarafia, no? Che è venuto un po' alla ribalta con Venezia. Lui una volta fatta... Un po' tanto, mamma mia, è avuto veramente... È molto bravo, questo va detto. Ha fatto un corso professionalizzante con noi incontrando una casting director che è Chiara Meloni, da noi è venuta la Meloni, è venuta la Simona Tartaglia, la Marta Gervasutti, c'è il fiorfiore dei casting italiani, c'è la possibilità di incontrarli, di lavorarci, avere un rapporto diretto, quindi anche dei consigli lavorativi per poter entrare in questo settore. Sì, perché poi quando si è giovane, insomma, si tende molto a recitare più che essere normali, no? Cioè, voglio dire, non potrei mai farlo perché ricordarsi una parte, avere la mimica facciale subito, eccetera, per l'amor di Dio, mai! Però effettivamente è importante avere persone che ti possono estradare. Assolutamente. Cioè, voi fate corsi di... dimmi, ad esempio? Sì, sì, ad esempio, io stavo guardando i bambini, ci sono due bambini che hanno, che stanno studiando con noi, che in questo momento sono a Venezia a girare un film inglese da protagonisti. Cioè, e questi sono... I doppiano? No, e viene tutto sottotitolato perché all'estero non vengono doppiati, sottotitolati. Ah, è vero, noi abbiamo questo grande patrimonio che sono i doppiatori. Però su tutta Italia sono stati scelti due bambini della scuola, ma due bambini di Arezzo che non hanno alcun tipo di conoscenza, quindi vuol dire che la formazione premia alla fine. E questo è il concetto che deve passare. Sì, no, no, il prepararsi, essere pronti al treno quando arriva. Quindi si studia dizione, presumo? Dizione, recitazione teatrale, recitazione cinematografica, un corso per presentatori tv, abbiamo canto propedeutico, quindi per i bimbi piccoli o canto per gli adulti. Anche presentatori tv, eh? Presentatori tv, lo stesso Beruato... La macchina da presa non mi veniva prima, nel cinema c'era una macchina da presa, sono zucco, ecco, era benvenuta. Andrea Beruato, che in questo momento è a Hollywood perché è uno dei venti fortunati ad essere entrati a Lambda, che è un'accademia esclusiva, il provino è stato preparato da me, Daniele, e ha studiato con noi. Che c'era scritto nel provino? No, il provino lui ha portato una parte, quindi... Ah, una parte, sì, scusa, una parte... È stato preso, è uno fra i venti persone in tutto il mondo, ad essere stato accettato a Hollywood in questa accademia. Lui tramite noi è riuscito a fare un programma su Sky, ha condotto un programma su Sky, un ragazzo di vent'anni, partito da Rezzo senza alcun tipo di conoscenza. Quindi io ribadisco. Ma per un comico invece, cosa gli insegni? Che il nostro tempo è quasi scaduto? Per un comico, diciamo, molto più la parte comica, mimica, facciale, le situazioni, le proposte che ci possono essere. Però ci si nasce un po', dillo, dai. Un po' sì, però comunque tutti siamo comici, eh, alla fine. Sì, è vero, bisogna essere autoironici, io penso. Sì. Scovarsi molti difetti e enfatizzarli. Io a zero che faccio l'uomo ragno, quindi ti puoi immaginare come sono ridotto. Però sei in calzamaglia. Sono in calzamaglia. Vedete, è vero, voglio dire, è in calzamaglia, non ha una fisicità, ma rimane simpatico per quello. I difetti a volte premiano. E allora abbiamo parlato dei corsi di formazione per lo spettacolo, l'abbiamo fatto con Marzia Fontana, attrice, e Daniele Marmi, attore e cabarettista.